Turista si infortuna ai leghetti di Cavagrande, sanitario lo soccorre e accusa un malore, interviene l'eleambulanza. Nella pomeriggio del martedì 22 giugno la stazione SAGF di Nicolosi riceveva una richiesta di collaborazione dai parti dei volontari del CNSAS per un intervento di soccorso nei confronti di una turista infortunatasi lungo il sentiero di discesa che conduce ai leghetti della riserva di Cavagrande del Cassibile. La pattuglia, dopo aver preso notizia della posizione dell'escursionista, si portava in zona dove si univa ai già presenti organi di soccorso. Gli specialisti del SAGF, insieme ai citati organi, provvedevano a immobilizzare e imbarellare l'escursionista che riportava una sospetta frattura alla gamba destra. Dopo aver assicurato la malcapitata al personale sanitario dell'elicottero, le squadre si apprestavano a fare ritorno ai propri mezzi. Durante la risalita del santiero, uno degli operatori del 118, per la difficoltà del percorso, le alte temperature e le condizioni di elevata umidità della valle, accusava un malore per il quale è stato necessario richiedere nuovamente l'intervento dell'elieambulanza che, dopo aver arrecato la turista infortunata in ospedale, è rapidamente ritornato sul teatro dell'intervento. Le condizioni di salute dell'operatore 118 in difficoltà sono state costantemente monitorate dagli altri soccorritori fino a quando è stato affidato ai sanitari dell'elicottero. Il doppio intervento di soccorso iniziato nelle prime ore del pomeriggio si è concluso intorno alle 21.30, con il rientro all'inizio del sentiero di tutti i soccorritori intervenuti. Durante le escursioni si raccomanda di adottare tutte le precauzioni previste, compreso l'utilizzo di attrezzature adeguate, onde evitare che una piacevole escursione si tramuti in una brutta avventura.